Nel nostro territorio e non solo come museo esperienziale, quindi stasera noi offriremo tante esperienze, offriremo l'esperienza musicale con la performance di Massimo Garitano, un momento di creazione artistica con l'estemporanea di Michele dell'artista Michele Volpicella e addirittura un connubio tra musica e creazione artistica proprio perché il nostro musicista Massimo Garitano accompagnerà la realizzazione dell'opera di Michele Volpicella. Concluderemo poi la serata con una degustazione di vini senatore e con la speranza appunto di rendere il più piacevole possibile e soprattutto il più entusiasmato possibile questa serata. Noi vi ringraziamo e se vogliono dire conto così i curatori della mostra della società Vangato. Giusto un breve intervento per ringraziare innanzitutto tutti i presenti per aver riveduto in questo evento insomma che la nostra società Vangato è la persona di Sebastiano Pepe per i buoni giovani, è molto organizzata nella città di Cosenza, è una città che riteniamo molto sensibile insieme a valori alti di cultura, quindi grazie a tutti e fare in partire insomma la partenza. Basta. Salve e buonasera.